Ciao, sono Enrico Camatel per la qualificazione giocattiva del giocattivo 14.1 Questo è il bumper, 20 kg 25 kg, bumper Timer, il mio jet E il bumper spingare 5 7 5 5 7 3 8 4 4 5 7 7 7 10 10 5, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 5 6 7 9 1 2 7 8 5 4 5 5 8 9 10 10 11 12 3 4 5 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 2 3 4 4 5 6 6 6 10 10 10 10 10 10 11 12 13 15 15 16 16